buongiorno signori sono alessio della romus 3 immobili esclusivi oggi sono appoggio del torrino come sempre a casa nostra per presentarvi un nuovo appartamento in affitto si tratta di un trilocale piano alto completamente arredato e luminosissimo andiamo a vederlo poggio del torrino è il punto più alto del quartiere è una zona residenziale molto ambita dove hanno aperto tanti locali alla moda ed è vicino a tutti i collegamenti e soprattutto al centro dell'euro il quartiere è servitissimo e a poca distanza dalla cristoforo colombo lo stiense e il grande raccordo anulare con gli autobus raggiungiamo la metro b fermata eur palasport ed il laghetto dell'euro in pochi minuti eccomi superato questo piccolo ingresso siamo nel soggiorno dell'appartamento è confortevole ed accede direttamente al balcone vivibile l'appartamento è in buone condizioni ed è completamente arredato in stile vivace con colori naturali le finiture sono di buon livello come la porta blindata con doppio paletto gli infissi in legno con doppio vetro i pavimenti in ceramica nel living e in parquet naturale nella zona notte il balcone ha un orientamento a sud molto luminoso ed affaccia sul cortile condominiale silenzioso e panoramico la cucina è abitabile ed è già completamente arredata e completa di elettrodomestici il riscaldamento è autonomo con caldaglia gas beretta anche da qui accediamo al balcone vivibile qui siamo nel disimpegno che ci conduce alla zona notte è molto comodo perché ospita questo grande armadio a otto ante in questo lato della casa abbiamo due camere rispettivamente di 10 e 15 metri quadri e due bagni di cui uno interno con il box doccia e l'areatore e l'altro con la finestra e la vasca da bagno in questo lato questo appartamento si affitta con un contratto a canone concordato con cedolare secca ed è l'ideale per un single una giovane coppia o una famiglia che vogliono vivere in un contesto signorile e moderno con tutti i collegamenti verso l'euro compreso nel prezzo abbiamo un box auto singolo di 16 metri quadri nel cortile condominiale e anche per oggi da poggio del torrino è tutto vi ricordo che anche questo video sarà pubblicato sul nostro sito internet www.romusre.com e non dimenticate di seguirci anche su tutti i nostri canali social ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao